Il pallone è solo pesante, che è scritto e p***a, via. E ancora una volta il quartiere di Saione, ad Arezzo, ci troviamo in via Trasimeno a far parlare di sé per scritte che hanno imbrattato le saracinesche e i muri delle abitazioni, scritte probabilmente di stampo razzista. Io ho lavato ieri tutta parte perché è spoccato, io non so cosa ho buttato, si è intera qua. Quindi io pulisco ieri con acqua, sapone, candeggina. Però che è fatto? Deve vergognare, deve vergognare perché siamo qua tutti solo umani. Non conta neri, estranei o neri o italiani, non conta niente, siamo uguali. Io sono qua a pagare tasse, vendi la mia roba, stai tranquillo. Saione è il quartiere più popoloso di Arezzo e ha maggiore concentrazione di cittadini stranieri e residenti. Molti di loro sono in Italia da tanti anni e hanno aperto anche delle attività. Ciò nonostante, la vita in questa zona della città e la convivenza tra le tante etnie è ancora molto difficile. Male, sono male. È dura, bisogna un attimino avere la forza e avere anche comunque la tolleranza perché comunque è un quartiere multiettico come tutto il mondo sta diventando multiettico. Quindi bisogna imparare a conoscersi, a capirsi, a rispettarsi gli uni e gli altri e questo è quanto. Come si sta in questa zona? Bronze. Non mi interessa dire niente perché una è poca e due sono tronche.